Basta sprechi con il Ficobus. Vi abbiamo parlato la settimana scorsa di questi 9 autobus pagati la modica cifra di 4,3 milioni di euro da tutti noi e che viaggiano con una media di 6 persone a corsa, quindi sostanzialmente vuoti. Domani vogliamo mettere la parola fine su questo spreco di risorse pubbliche. Discuteremo una risoluzione del Movimento 5 Stelle in cui chiediamo di restituire immediatamente gli autobus ibridi e nuovi alla collettività. Nel caso in cui ci venisse risposto che questa decisione verrà presa alla fine della sperimentazione come ci è già stato anticipato anche in comune, chiederemo che almeno per questi 9 mesi il servizio possa essere accessibile anche ai titolari di abbonamento ordinario. Vogliamo dire basta a questo spreco di risorse pubbliche e restituire questi autobus ai loro legittimi proprietari, ovvero i cittadini.